Ben trovati i rati G della mobilità rete tram, si amplia il numero degli interventi di manutenzione. Nei prossimi due giorni sarà interessata la corsia di via Prenessina che sarà chiusa tra Viale Palmiro Togliatti e via Bresadola. Domani e mercoledì tram della linea 14 da via Prenessina proseguiranno per via Bresadola, via De Castani e piazza dei Gerani. La tratta interrotta sarà sostituita dai bus della linea 14 Navetta. E stanotte e domani notte tra mezzanotte e mezza alle 5.30 in via dei Fori Imperiali inizierà la fase degli allestimenti notturni in vista della parata per la festa della Repubblica il 2 giugno. La strada sarà chiusa e la linea di bus NMB sarà deviata, disattivate, anche 7 fermate. E tutto dal Tg della Mobilità.